Andrea, tre anni dopo, riecoci con la vittoria. Ma l'avevo segnata come giornata oggi e l'importante era prendere la fuga di inizio giornata. Ero presente già dall'inizio e poi nel finale ho detto che mi chiamano tutti i giocatori, sono un po' matto così e ho detto attacchiamo in discesa, proviamo a allungare. È stato un bel affare perché dopo dietro non andassero molto d'accordo e quindi ho potuto avere la meglio. Hai pensato che 30 chilometri da solo erano tanti? No, sinceramente pensavo che qualcuno rientrasse e poi ho ottenuto sempre un ritmo molto molto alto e in modo regolare. Dalla miraglia ero gestito benissimo e niente, quindi è stata perfetta. È la prima volta che la tua squadra vince due tappe in un Giro d'Italia? Speriamo domani, c'è ancora la tappa di montagna, sappiamo che Poggi è veramente forte, siamo qui con O'Connor per una classifica generale, abbiamo vinto due tappe, quindi non abbiamo niente da perdere, ci proveremo anche domani. Complimenti. Grazie mille.